Come ti chiami? Chiara. Chiara? Sei nata. Quando sei nata? Il 28 ottobre. Di che anno? 2004. 2004. Cosa canti? Natella qua. Da dove vieni? A Tamera. Ah, bene. Per comporre una canzone commovente, devi pensare a chi ti fa ammintare il cuore. Io l'ho scritta e davvero sorprendente, pur non essendo una canzone d'amore. Dante si ispirò a Beatrice, chi sarà la nostra ispiratrice? Per comporre una canzone d'amore. 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 Una delle macuate che c'è A guau, a guau, a guau La pietra canta presto a la televisione E le baranco dei lingari in una canzone Credo che sta a guai Una delle macuate 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 A guau, a guau, a guau La pietra canta presto a la televisione Una delle macuate 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 Che c'è A guau, a guau, a guau Una delle macuate Una delle macuate A guau, a guau E' tutto qua E' tutto qua Bravo Una delle macuate